E' stata rinviata a maggio del prossimo anno l'udienza in programma questa mattina davanti ai giudici del Tribunale di Trani per il processo a carico dell'avvocato tranese Pinacchiarello, accusata di concorso in falso e truffa in qualità di difensore dell'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Trani, Giuseppe Affattato. La vicenda riguarda una lettera inviata dall'Achiarello al Comune di Trani all'indomani della revoca dei domiciliari nei confronti di Affattato nell'ambito dell'inchiesta sul fotovoltaico. In quella comunicazione, a giudizio dell'accusa, sostenuta dal pubblico ministero Michele Luggero, l'avvocato Chiarello avrebbe evidenziato solo il venir meno dei domiciliari, omettendo invece la circostanza che il GIP aveva sostituito quella misura con l'interdizione dal servizio. Omissione, secondo l'accusa, che avrebbe indotto in errore l'ufficio personale del Comune di Trani, al quale l'Achiarello sostiene ancora il PM Luggero, avrebbe rappresentato che Affattato era da ritenersi in servizio, seppur assente dal lavoro per malattia. L'ufficio personale chiese copia dell'ordinanza di revoca dei provvedimenti restrittivi nei confronti dell'ex dirigente dell'ufficio tecnico, ma per l'accusa l'avvocato Chiarello inviò in Comune una copia non fedele all'originale, nella quale si sostituivano i domiciliari con la misura interdittiva. Questo avrebbe indotto in errore l'ufficio personale, che li ha mise in servizio Affattato con il conseguente pagamento dello stipendio. Un errore, a giudizio del PM Luggero, indotto dall'avvocato Chiarello, accusata per questo di falso per induzione, ma anche di truffa per aver consentito al suo cliente di tornare a percepire l'intera retribuzione, nonostante l'interdizione.